Questa mattina avrei dovuto registrare la tredicesima intervista nel format a quattropassi con. Avevo già l'appuntamento con una imprenditrice, avremo passeggiato per le vie di Cagliari in alcune stradine non ancora percorse nelle precedenti interviste, così come avevo già programmato l'intervista per sabato prossimo che avremmo effettuato all'interno dell'orto botanico. Ma poi è arrivato giovedì scorso il DPCM del Presidente del Consiglio che impone obbligatoriamente l'utilizzo della mascherina in tutti i luoghi all'aperto, fatto eccezione i casi in cui sia garantito per le caratteristiche dei luoghi o per dati di fatto il totale isolamento e continuativo da altre persone che non siano congiunti. Quindi a questo punto mi chiedo dove mai sarà possibile stare in un luogo all'aperto senza non incontrare mai qualcuno che non sia un tuo parente. Il formata funzionava talmente bene che avevo già programmato ed individuato le persone da intervistare nei prossimi mesi. A questo punto cercherò di capire come sarà possibile eventualmente fare delle interviste mantenendo e rispettando le regole, magari indossando la mascherina nel momento in cui si ascolta e dopo ottenendo opportune distanze di sicurezza con la persona intervistata. Vediamo se sarà possibile procedere in questo modo qua. Dal momento che ho acceso la videocamera a questo punto non posso fare altro che intervistare me. Più di una volta ho chiesto alle persone che avevo incontrato quali fossero le cose che avessero imparato dalla vita e mi sono anche chiesto come avrei risposto io se mi avessero fatto una domanda del genere. Beh, ho imparato ad ammirare le persone di valore. Molti apprezzano il paesaggio, il tramonto, le opere d'arte. Beh, queste cose certamente le ammiro anch'io, ma alla fine ciò che mi entusiasma, mi colpisce, sono le persone di valore, quelle che si staccano dalla media, quelle che fanno cose diverse dalla massa, che sono ovviamente cose positive. Infatti nel mio vocabolario non esiste la parola invidia, ma soprattutto ammirazione e ispirazione. Sostanzialmente mi faccio ispirare dalle persone di valore. Io sono consapevole di essere una persona con un talento professionale ai limiti della sufficienza ed è proprio per questo che sono andato anche alla scoperta di persone migliori di me. Che cos'altro ho imparato? Ho imparato l'arte della generosità, perché credo ovviamente di non essere nato con questa abitudine e penso di averla appresa sperimentandola e ovviamente mi sono reso conto di aver ricevuto dei segnali di gratitudine, così come è naturale anche immaginare. Penso di essere stato particolarmente generoso con persone che poi ho scoperto dopo che non lo meritavano, però ovviamente fa parte della vita. Un'altra cosa che ho imparato è quella di convivere con una confusione in merito alla mia fede religiosa. Non ho le idee ben chiare a proposito, anche se ogni notte prima di andare a dormire mi raccolgo per qualche minuto soltanto con me stesso e prego. E poi l'indomani mattina appena mi sveglio e da fronte alla giornata sono pienamente consapevole di dover fare affidamento su me stesso, anche se poi ho avuto la percezione che qualche volta le mie preghiere venissero ascoltate. Ho dei casi, un caso soprattutto, ma ne ho diversi, che mi hanno lasciato particolarmente sorpreso. Tantissimi anni fa, quasi 40 anni fa, ero a Darfo Boario Terme, avevo corso due gare e la domenica mattina stavamo per andare via e decidemmo di andare a correre una gara aperta a tutti, ovviamente anche con adulti. Io avevo poco più di 15 anni, parteciparono centinaia di persone e ricordo che nonostante la stanchezza fece una gara straordinaria. Arrivai al ridosso delle prime cinque posizioni e i premi erano soltanto per i primi cinque. Ricordo che alla fine di quella gara c'era un premio speciale che la giuria avrebbe attribuito, a loro ovviamente insindacabile giudizio, a qualcuno, una sorta di premio speciale, quelle cose che tu dai, che so, al bambino più piccolo, alla persona più anziana, insomma, premi di questo genere. Ricordo appunto di aver fatto una gara straordinaria e dissi a me stesso, beh, se esiste un Dio, cavolo deve riconoscere che quel premio lo merito io. Però sai, sono quelle cose che tu dici così per dire. In ogni caso si stava facendo tardi e noi dovevamo rientrare in Sardegna, pertanto iniziamo ad allontanarci dall'area delle premiazioni. Ma ricordo che avevo una profonda delusione e sentivo comunque ancora in lontananza il microfono dello speaker che ad un certo punto iniziava ad annunciare chi avrebbe vinto quel premio speciale. Ricordo ancora oggi la voce perché disse il premio speciale che va al numero 32. Io aprì, sapevo di aver corso con quel numero, aveva ancora il numero attaccato, spillato alla maglietta dentro la canadese e quindi aprì la canadese per avere certezza che quel numero fosse proprio il mio. Ovviamente lo sapevo, rimasi in qualche modo pietrificato, ricordo che era nuvoloso e alzai lo sguardo al cielo e in quel momento si squarciarono le nuvole e venne, come dire, illuminato da questo sole che apparve in quel momento. Non riuscivo a credere a quello che era capitato ed ancora oggi la parte più razionale di me stesso cerca in tutti i modi di giustificare quel fatto come una pura coincidenza, anche se un'altra parte, una bucina che continua ad assillarmi mi dice che sostanzialmente non era così. È chiaro che poi sono capitate anche altre situazioni che mi hanno fatto riflettere, però la confusione è comunque ancora oggi è tanta. Certamente credo di aver imparato tante altre cose, ma quelle magari le riservo per qualche altra occasione. Nel frattempo credo che sia arrivato il momento di andare almeno a correre in attesa di poterla intervistare i miei amici. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!